Bentornati alla notizia di Grande Fratello Bip. Oggi con le ultime notizie l'ichè. Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più amate dello spettacolo italiano. Conosciuta anche a livello internazionale, la donna ha una figlia bellissima. Ecco le foto. Il cinema italiano è sicuramente riconosciuto come uno dei più importanti e apprezzati dai critici e dagli appassionati del mondo intero. Ovviamente ci sono dei registi intoccabili e attori assolutamente memorabili che perfino l'America tuttora ci invidia. Maria Grazia Cucinotta si annovera tra quelle attrici più riconosciute all'estero oltre che essere una vera e propria sex symbol per diverse generazioni. Dal punto di vista lavorativo la Cucinotta si è tolta moltissime soddisfazioni a partire dal suo trampolino di lancio ossia la partecipazione a Miss Italia nel lontano 1987. La donna non vinse ma guadagnò una visibilità incredibile. Per questo fu scelta da Renzo Arbore nel programma Indietro Tutta. Dove ottenne un successo immediato che la condusse ad essere protagonista indiscussa di diversi lungometraggi importanti. Nonostante la carriera sia stata per l'attrice motivo di orgoglio, la vera gioia di Maria Grazia Cucinotta è certamente la famiglia. La donna è sposata dal 1995 con l'imprenditore Giulio Violati e dal quale ha avuto una figlia di nome Giulia. La piccola, ora giovane donna, è diventata bellissima. Ecco le immagini. Maria Grazia Cucinotta e sua figlia, Maria Grazia Cucinotta è ancora felicemente legata al suo compagno da quasi 30 anni Giulio Violati. I due hanno, tra l'altro, vissuto per un po' di tempo in Cina a causa del lavoro di lui, lontano, così, dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Sarà stata questa la chiave del successo del loro matrimonio? Intanto, a far compagnia ai due coniugi ecco che c'è Giulia, la meravigliosa figlia di Maria Grazia Cucinotta e suo marito. La ragazza è nata nel 2001 e conduce una vita abbastanza riservata, piuttosto al di fuori delle dinamiche televisive. Di lei ci sono poche foto, condivise per lo più da sua mamma, le quali, però, mostrano una bellezza strabiliante e molto simile a Maria Grazia. Giulia. Il cui nome è certamente un omaggio al papà, è alta, castana, occhi nocciola e molto slanciata proprio come la madre. Riguardo la sua vita personale, sappiamo che si è laureata alla LUIS di Roma in Economia e Management e desidererebbe andare all'estero per un'esperienza lavorativa o di studio. Maria Grazia e Giulia hanno anche collaborato ad un film dal titolo Teen. Teen è un progetto cinematografico che tratta di bullismo prodotto dalla cucinotta e sceneggiato da sua figlia. Giulia si è ispirata, infatti, ad una storia personale per la stesura del film e ha realizzato con sua mamma un lavoro davvero eccezionale. Che la giovane Giulia possa seguire le orme di mamma Maria Grazia. Noi ce lo auguriamo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Grazie per aver guardato il video.